Inaugurata a Pescara una nuova sede della Will Pensionati, sita a Piazza Rizzo nei prezzi di via Vespucci, si prefigge come presidio e come punto di riferimento per offrire servizi e spazio sociale. Sono intervenuti all'inaugurazione il sindaco Carlo Masci, il presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli, oltre ai patroni di casa della segreteria regionale Will Pensionati Germana Temporin e Michele Lombardo, Giampiero Fattore, segretario Will Pensionati Pescara. Un'apertura che ha un significato ancora più importante proprio visto il periodo complicato che viviamo e quindi che la Will, che è un sindacato di responsabilità come lo definisco io, apra questo punto in un quartiere popolare e popoloso è veramente un passaggio importante per la città, per questa parte di Pescara. Sì, diciamo che l'apertura di questa struttura, di questo punto è una zona strategica di Pescara, una zona popolosa e popolare e quindi noi mettiamo a disposizione questa struttura a favore di tutte le persone, le persone soprattutto che hanno più bisogno, le persone più fragili, le persone che soffrono di disagi, le persone che hanno bisogno di aiuto. Quindi noi siamo a disposizione con quella felice intuizione di Giorgio Benvenuto del sindacato dei cittadini, anzi io direi l'evoluzione, come diceva lei, del sindacato delle persone. Questa è una struttura che già noi occupiamo da parecchi anni, però la occupavamo con un servizio di tipo parziale che noi abbiamo voluto invece estendere a tutti gli ambiti di attività della nostra organizzazione sindacale, quindi non solo a tutela dei diritti dei pensionati ma a tutela dei diritti dei cittadini. Sì, la scelta della Will insieme alla categoria dei pensionati della legione Abruzzo e della città di Pescara ha voluto investire su questa nuova sede in una concezione che da tempo portiamo avanti come organizzazione sindacale confederale che riguarda ovviamente la presenza delle nostre sedi vicino alla gente, vicino alla cittadinanza, vicino alla popolazione per dare loro i nostri servizi sia di natura previdenziale che di natura fiscale ma anche di natura sindacale.